abbiamo portato dei pasticcini per il dopo faccio fatica perché siamo in Repubblica noi dovremmo farci la nostra aspirazione è quella lì in teoria noi per adesso siamo in classifica quindi siamo nella scia per lasciare scaramanzie quindi è sempre meglio le cose dirle dopo ecco l'allenatore ah perfetto grazie allora ci raccomandiamo con il nutrizionista perché portano i pasticcini per la squadra magari poi se dovete sovrasteggiare la Vittorio nel caso non sapere come è nel modo che è credibile ah bene grazie sì sì grazie a tante abbiamo sempre più di sole come è solato grazie